Ciao da Francesco Lano, ben trovata, ben trovato su scuolasuono.it ed in particolar modo alla settima puntata della mitica saga Come vivere di musica propria guadagnando 2500 euro al mese. Utopia o realtà? Ebbene, in questa puntata, alla settima puntata, mi sono fermato a fare qualche riflessione e probabilmente cambieremo il titolo della saga stessa. Cambieremo leggermente direzione. Ti spiego che cosa è successo. Facciamo un passo indietro perché in questi ultimi giorni, in cui non sono stato molto attivo su scuolasuono.it Ho però avuto modo di riflettere un po', di controllare le statistiche del mio sito, di pormi alcune domande e darmi anche alcune risposte, come direbbe Marzullo. Le riflessioni sono le seguenti. Sono rimasto leggermente stupito del fatto che in pochi musicisti abbiano risposto ai miei appelli, abbiano commentato il mio sito e eventualmente abbiano anche, anzi in questo momento, nessun musicista, nessuna band ha ancora prodotto, su mio suggerimento, la videoguida di presentazione, il video di presentazione per proporsi in qualità di candidato speciale, particolare, nell'operazione che stiamo, stavamo o staremo portando avanti. Dunque, mi sono chiesto, come mai? Che cosa c'è che non va? I video vengono visti, ho le statistiche, so anche che la maggior parte di voi guarda integralmente i miei video. Tuttavia, c'è qualcosa che non va, perché se in pochi musicisti mi danno una risposta, vuol dire che l'argomento interessa, ma forse lo sto prendendo nella maniera sbagliata. E che sinceramente, proprio senza feedback, senza commenti, non riesco proprio a rendermi conto se sto facendo, se sto sbagliando in qualcosa, se sto prendendo una direzione sbagliata, oppure se anche in realtà la direzione era quella giusta, ma per vari motivi nessuno si è proposto. C'è da dire anche in realtà che tempo fa, soprattutto nelle prime puntate, in molti diversi musicisti si erano proposti per partecipare e per essere seguiti da me e dal mio staff nella realizzazione della campagna marketing e della pubblicità e del posizionamento su web per quanto riguarda la loro band, la loro musica. Tuttavia, a mano a mano che le puntate sono andate avanti, sebbene questi musicisti abbiano continuato a guardare e a trarre quello che c'era da trarre dalle puntate e dalle lezioni precedenti, non si sono più fatti avanti, non si sono più spinti. Quindi penso che sicuramente ci sia qualche errore che io ho fatto. Forse ho preso un po' troppo di punta l'argomento, non lo so, me lo sto chiedendo, però tranquillamente puoi rispondermi, puoi rispondermi anche via email, non preoccuparti. Io magari ci metto qualche giorno a rispondere, in questo momento ho qualcosa come 135 email dei giorni passati a cui devo ancora aprire e rispondere, chissà che disastri ci troverò dentro. Comunque, prima o poi ti rispondo. Dunque, la riflessione che ho fatto è la seguente. Ma siamo sicuri che il motore, l'interesse di un musicista sia quello di guadagnare effettivamente 2.500 euro al mese, mettendoci tutta la propria vita, la propria passione, il proprio tempo in questa attività o piuttosto mi trovo di fronte ad un pubblico di persone che già hanno un lavoro, che già hanno una vita impostata in una certa maniera e che per hobby portano avanti la propria musica, alla propria arte e quindi non sono disposti, non hanno la possibilità pratica di accantonare tutta una vita, una serie di abitudini e dedicarsi unicamente al sito web, a fare i video, a fare questo, a fare quell'altro. Quindi questa potrebbe essere una possibile spiegazione che mi sono dato dall'andamento controverso tra statistiche e risposta, diciamo così, del mio pubblico che è avvenuta in queste puntate. Dunque, da oggi, quindi dalla settima puntata, la saga cambierà il titolo. Lo sto ancora pensando, ci sto ancora riflettendo, ma suonerà come qualcosa di questo tipo. Come creare una relazione stabile, duratura e continuata con i propri fans? Oppure come creare o come avviare un proprio fans club da migliaia di seguaci? Insomma, in pratica, la riflessione che ho fatto mi ha condotto a pensare che non è tanto, forse, importante concentrarsi sull'aspetto economico, sull'aspetto del guadagno, che comunque quello ci deve essere ed è giusto anche che ci sia, perché quando uno produce la propria musica deve venderla. Ma che cos'è veramente quella cosa che fa respirare un musicista? Che cos'è l'aria per i polmoni di un musicista? Se io fossi dall'altra parte dello schermo, che cosa cercherei? Ebbene, ponendomi queste domande mi sono dato una risposta che desidererei sinceramente che tu confermassi o smentissi. La cosa che mi piacerebbe sarebbe avere la possibilità, in maniera non troppo impegnativa, quindi con un dispendio di tempo non totale, a part time diciamo, mettendoci qualche ora, una, due ore al giorno di impegno, come creare un seguito di persone che veramente mi apprezzano, apprezzano la mia arte, apprezzano il mio modo di suonare, apprezzano le mie canzoni e che le caricano nel proprio iPod, nel proprio lettore MP3, le ascoltano la mattina. Cioè io da musicista avrei il desiderio di fare del bene all'umanità, di fare in modo che queste persone siano in contatto con me, in contatto diretto, che non vedano l'ora di ascoltare la mia nuova canzone, che non vedano l'ora di assistere ad esempio ad una mia prova o a un mio concerto, che non vedano l'ora di conoscermi perché sono quell'artista che seguono e che stimano tanto e di cui hanno praticamente tutte le canzoni, conoscono la storia vita, morte e miracoli. Ecco, questo probabilmente mi interesserebbe ancora di più se fossi un musicista. Giro la domanda a te perché io sono da questa parte dello schermo, ho il microfono vicino, sono da questa parte della webcam, tu sei dall'altra parte senza il microfono e senza la webcam accesa, quindi sei tu che mi stai guardando e chi meglio di te potrebbe aiutarmi a prendere una direzione migliore. Arrivati a questo punto perciò non mi sento di dire che non ci sarà nessuna band che fungerà da caso studio, però vediamo di ridimensionare. Io sicuramente se devo creare un caso studio devo avere una band o un artista che intenda seguirmi, che intenda mettere in pratica i consigli che gli do, altrimenti non esiste un caso studio, altrimenti ho la possibilità di aprire una serie di consulenze, ecco posso fare da consulenze per la tua vela, ma se non ho un caso studio come faccio a far vedere agli altri nel teatro virtuale come si fa questa cosa? Ebbene, l'idea mia è quella di proseguire nella ricerca della band o dell'artista che si vuole proporre per il caso studio, ma precisando alcune cose. Numero uno, non sarà necessario un lavoro di otto ore al giorno, sicuramente sarà necessaria una produzione di contenuti giornalieri o settimanali, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista, come si diceva, di video e eventualmente di materiale scritto, ecco, quindi di testi, quindi sicuramente ci sarà la necessità di un impegno costante nel tempo, ma leggermente ridimensionato da quello che avevo fatto intuire rispetto alle puntate precedenti, quindi non cerco una band che otto ore al giorno sia in studio di registrazione, sia a produrre musica, sia davanti alla webcam, non cerco una situazione di questo tipo, ma cerco un artista vero, una band vera che abbia dei bei brani, che abbia delle belle canzoni, che sia in grado di produrre in maniera quantomeno decente, paragonabile a quelli che sono i metodi di produzione musicali planetari, universalmente riconosciuti, e che abbia intenzione comunque di mettersi in gioco, di metterci la faccia e di scommettere sulla propria arte, perché è una scommessa in definitiva, io non posso prometterti che domani avrai 2000 fans disposti ad acquistare la tua musica, però se segui i miei consigli posso garantirti che dopo domani avrai sicuramente migliaia di persone che ti seguono e perciò è ovvio ed è statistico che se tu ti rivolgerai ai tuoi 10.000 fans dicendo guardate che sto producendo il nuovo album ed ho necessità ad esempio di reperire i fondi per pagare lo studio di registrazione, stai pur tranquillo che se quei 10.000 saranno delle persone che caricano i tuoi file musicali sul loro mp3 e che ti seguono e che non vedono l'ora di sentire una nuova canzone prodotta da te, stai tranquillo che l'album lo registrerai a costo zero e sicuramente ci andrai in attivo, ci guadagnerai. Quindi detto questo, invito, ti invito personalmente, è un invito specifico anche se non so in questo momento chi sei, sei una ragazza, un ragazzo, un batterista, un chitarrista, però adesso che mi stai guardando non lasciare passare del tempo, scrivimi immediatamente che cosa ne pensi, ti invito sinceramente a farlo attraverso il blog, quindi postando un commento qua sotto. Se trovi delle difficoltà tecniche non preoccuparti, scrivimi eventualmente via email, in ogni caso io vedrò di rispondere. Cerchiamo di impostare o reimpostare al meglio questa collaborazione che sta per nascere perché mi sento come un baule, concludo con questa metafora, un baule pieno di tesori, di monete, di pietre preziose e che però le devo custodire, scusatemi ma un proprietario di un tesoro non è che prende il cassone, lo rovescia e dice venite, venite tutti a prendere, fate man bassa del mio tesoro, piuttosto se una persona generosa lo dà agli amici, a coloro che lo seguono. Per spiegarmi meglio, ho tante idee utilissime alle band che per essere messe in pratica, essere seguite, hanno necessità di una conversazione se non a quattro occhi, almeno telefonica, continuata, hanno necessità di essere messe in pratica subito e di maniera costante. Questo lo posso fare solamente con una band o con un artista che abbia voglia di mettersi in gioco, di diventare mio amico e di andare avanti su questa strada. E sono certo che anche tutti gli altri, coloro che seguiranno questo esperimento se riuscirò a terminarlo, trarranno davvero moltissime idee, moltissimi spunti perché potranno utilizzare queste informazioni sulla loro situazione musicale sulla loro musica per creare il proprio fans club per creare il proprio pubblico di migliaia di persone che li segue con il proprio lettore mp3 e nella propria testa le sue canzoni. Io a questo punto ho finito. Ti lascio all'intervista che ho realizzato venerdì scorso con Andrea Marco Ricci di notelegali.it. È un'intervista breve, dura 35 minuti circa, ma molto condensata e molto interessante. L'idea è stata quella di creare una risorsa che facesse chiarezza sul diritto d'autore e quindi sulla CIA e quindi sulle alternative gratuite o meno che ci sono alla CIA rispetto al diritto d'autore. Parleremo anche di altre cose. Desidero non anticiparti troppo. Puoi semplicemente scaricare questa intervista indicando nel modulo qui sotto il tuo nome, la tua email. Clicca, invia e a quel punto riceverai il materiale via email. Non mi resta che salutarti. Ciao da Francesco Nano. Ci vediamo con la prossima puntata. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao da Francesco. Ciao da Francesco. Ciao da Francesco. Grazie a tutti.